ma che altri italiani da spieghiamo una roba? perché a mio non mi ha capito troppo eh ascoltare per trent'anni canzoni di Battisti e adesso c'è un po' in galera se a Piazza no è il mio canto libero e le canzoni lì ascoltate no che a mio bisogno di dargli il gastolo, ma si matto, ma boh